Guarda che cosa ha fatto a questa chiave, al nostro simbolo. Quella donna ha un macigno al posto del cuore. Ma tutto questo non cambia ciò che provo per te. Possono tirarmi addosso tutto il fango di questo mondo. Io ti amerò per sempre. Vado. Poverina, questa ragazza è talmente buona lei. Ed è tanto, tanto legata a Federico. Federico, ora è mio. È mia! Quiero che supli che, ti voglio a voi. Mio, tutti loro mi molestano. Mio, te distrae, te dispersano. Mio, per sempre. Mio, anche te bese. Mio, io diritto. Mio, io te elico. Mio, mio, mio. Solo mio. Solo mio. È la chiavetta. Non è possibile, l'avevo lasciata qui. Ma dov'è? Franco. Che c'è, Flor? Cosa c'è? Sto cercando la chiave che avevo al collo. L'ho appoggiata lì e adesso non c'è più. E i bambini dove sono? Non lo so, le streghe mi hanno... Li ho lasciati da soli con loro. Come soli? Dobbiamo andare a cercarli subito. Nico, per caso hai visto da qualche parte i bambini? No, perché me lo chiedi? Come perché? Sono rimasti da soli. Dobbiamo trovarli. Uno. Smietta di osservarmi. Eh? Crede sia tanto sciocco da non accorgermi, ma lei mi sta spiando da quando sono qui. Semplicemente non spio, osservo generale, perché mi pare giusto osservare tutte le persone che girano intorno al mio padrone. Capito? Innanzitutto, io non sto girando intorno al suo padrone, ma sono seduto in questa maledetta macchina vicino a lei. E poi io non sopporto di essere spiato. È chiaro. Eccolo. Che cosa ho preso? Lo aiuto generale? Ma lo vedi che io non posso muovere queste maledette gambe? È sempre il solito. Signor Colte. Come? Come si apre questa portiera? Io ero sicuro che ce l'avrebbe fatta senza il mio aiuto. Aiuto da un infalto? Finalmente pagherai per tutto quello che hai fatto. Assassino. Evaristo? Sì? Trova una corda, svelto. Sì. Gli ho insegnato tutto io. Lasciamo perdere. Aiuto! Tranquilli! Aiuto! Tranquilli, ragazzi! Squadra pronto, intervento, sta arrivando. Bene, ragazzi. Stanno qui. Ora toglietevi da sopra la botola. Adesso vi tiriamo fuori, ok? Ci siamo quasi. Calmi. Fatto. Tira laggiù. Forza, forza. Sprichati. Scendete. Scendete. Vieni qui, tesoro. Vieni? Sì. Come essere possibile? Come essere possibile tanta cativeria contro questi bambini? Ma mi spiegate perché quelle streghe vi hanno rinchiuso lassù? Io non ho idea. Sono piccola, sì. Ma io non ci vado in un attimo, troffi, ho capito. Stai tranquillo, ti fidi di me? Io non permetterò che accada questo. Sì, sì. Giuro che lo prometto. Flori, sienta tu ora dovrei volare lontano, lontano, dove non poter essere mai trovata da nessuno e portare piccoli con te. Sì, Greta ha ragione, dobbiamo andarcene. Ragazzi, preparate le vostre cose. Assolutamente no, io non lascerò la mia casa nelle mani di quelle due donne, quindi da qui non me ne vado. Piccolo Franco, questa non essere più Villa Fritz and Falten, questa essere Villa degli orrori e della paura. Noi non ti lasciamo qui, Franco, non puoi rimanere, sono proprio le streghe. Sì, no, no, ho detto di no, no, io non scapperò. Andiamo, andiamo. Lord, devi mandare Roberta da Maia. No, non voglio separarmi da Roberta. Non conviene che rimaniate tutti uniti, è per il vostro bene. Mandala a Londra. Sì. Forza. Sembra di essere in prigione, quelle due streghe hanno chiuso la porta a chiave. Cosa facciamo? Ho paura? Non sommatizzare, non sommatizzare. Ho un'idea. Andiamo su, le picchiamo e prendiamo la chiave. Nein, 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 Nicolás. Lasciate che vecchia Greta usare astuzia per ottenere chiavi. Non muovetevi da qui, io torno subito. Specchio, specchio delle mie brame, chi sarà la più bella del reame? Dopo la maschera al cetriolo? Permissa, frau Delfina, dov'è? Che cosa c'è di tanto urgente, Greta? Scusi se disturbare, ma io avrei bisogno di chiave di fila per portare i pampini, e cioè la spazzatura, là fuori. Ti consiglio di seguire le nuove regole di questa casa, altrimenti il tuo futuro qui sarà molto, molto breve. Ja, ja, ma ora poter avere la chiave? Greta, sono stata chiara. Ja, frau Delfina, perfettamente. Ecco chiave! Oh, amme, Greta, presto! Senti, senti! Apri, vorrei ciò. Che cosa state facendo? Ho preso una decisione, caro il mio Fritz & Junchengen. E allora, tornerai? Sì! Bene! E quindi, ora, cosa, cosa? Sì, in un altro corpo. Tornerai in un altro corpo. D'accordo, d'accordo. E nel corpo di chi lo conosco? Chi è? Non so se lo conosci, ma è lui. Quello! Pobre los ricos que tanto tienen Que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran kilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Tengo, tengo todo Son ricos sueños Y pobre, pobre nodo Devo fare qualcosa per sembrare più alta? Ma, secondo me va benissimo come sei Albin Superstar 2 in Blu-ray e DVD Ti sembrava la tua voce? Non sai quanto ti voglio a fare Io ti voglio tanto bene Lore 2 Dalla lunedì 26 aprile alle 15 Su Boeing L'appuntamento con i telefilm di Boeing Finisce qui